Studioso che ha saputo spaziare dal campo della geografia a quello dell'ornitologia, dallo studio della genetica a quello della fisiologia, riuscendo infine a concentrare alla perfezione le sue conoscenze sulla società antropomorfizzata e le sue sorti evolutive. Nel corso delle sue ricerche ha studiato le cività del passato e ha spiegato geograficamente le cause del successo o del fallimento di un'economia, fornendo in tal modo un'analisi della società contemporanea che considera i fattori geografici, culturali, ambientali e tecnologici. Noto a livello mondiale per il saggio Armi, acciaio e malattie, 1997, vincitore del premio Pulitzer per la saggistica. In tale opera esplora i fattori geografici, culturali, ambientali e tecnologici che portarono alla dominazione della cultura occidentale sul mondo e ipotizza un nuovo tipo di storia basato sulla scienza che può formulare previsioni piuttosto che semplicemente descrivere un maledetto fatto dopo l'altro. Rinomato autore di parecchie opere di divulgazione scientifica che combinano antropologia, linguistica, genetica, geografia e storia, è un fermo oppositore delle argomentazioni scientifiche a sostegno di tesi che giustifichino eventuali divari di ricchezza o di sviluppo sociale tra popolazioni umane in base a presunte differenze intellettive o di attitudine delle stesse. Fa parte del consiglio editoriale di Skeptic Magazine, una pubblicazione della Società degli Scettici. È inoltre membro della Società Filosofica Americana, dell'American Academy of Arts and Sciences e dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Testimone del Tempo 2019, il professor Jarrett Diamond. Invito anche Mario Scovazzi e l'assessore all'ambiente Maurizio Giannetto a salire sul palco per la premiazione. Che piacere, professore. A lei subito la premiazione da parte di Mario Scovazzi e Maurizio Giannetto. Sta arrivando Giannetto, eccolo. Sì, prego. In via del tutto eccezionale, vista l'emozione di Giannetto, gli faccio dire una parola a testimonianza di tutti gli altri premiatori perché è molto contento di essere qui con lei oggi. No, no, sono onorato veramente di avere questo incarico. Veramente. Devo essere breve, avrei mille cose da dire, ma la prossima volta. Tanto si giri, se no vedono solo le sue spalle. Ecco. Ecco qua, perfetto. Da questa parte per i fotografi, ecco qua. Perfetto. Fate le fotografie, teniamo i premi così lui può sedersi sul... Gli riconsegniamo dopo. Professore, si accomodi. Questo è il microfono per lei. Ecco qui. Beh, devo dire che sono un uomo fortunato, eh. Oggi sto facendo veramente... Riesco ad essere vicino a persone molto importanti. Poi noi siamo tornati addirittura in macchina insieme, quindi quando lei è arrivato da Los Angeles, perché lui per venire qui stasera si è fatto 14 ore di volo direttamente da Los Angeles. Quindi grazie doppiamente per essere qui con noi questa sera. Professore, perché le piace così tanto l'Italia? Perché mi piace tanto l'Italia? Ho cominciato con lo studio della lingua italiana come la mia ultima lingua, la mia tredicesima lingua, nell'anno 1999, quando stavo per fare un leggiatore in Italia con la mia famiglia, e ho pensato perché non imparare la grammatica italiana per poter andare in un ristorante. Dunque, una spiegazione molto facile. Sfortunatamente, alla mattina della nostra partenza, mio papà è morto, abbiamo perso la valutatura, ma avevo già studiato un mese la lingua italiana e ho pensato perché non dedicare altri due mesi e completare la grammatica. Dunque l'ho fatto, ma dopo aver imparato la grammatica, perché non leggere un po', perché non leggere Boccaccio e leggere Primo Levi, l'ho fatto, e poi ho pensato perché non parlare la lingua italiana con delle italiane. Ho pescato a Los Angeles qualche studentessa italiana con la quale parlare l'italiano. Ho fatto dunque un rapporto che è durato 20 anni. Ogni settimana mi incontro con la mia professoressa, parliamo del tutto, parliamo della morte dei padri, parliamo del matrimonio dell'Italia, degli Stati Uniti. Dunque, mi piace la lingua. Cinque anni fa ho trovato un'opportunità per venire in Italia all'Università Luis a Roma. Devo dire onestamente per me all'inizio era un'opportunità per ascoltare la vostra lingua e parlare la vostra lingua. Non ho pensato a voi italiani, voi italiani siete persone come tutte, ma non è così. Voi italiani siete un popolo molto particolare, voi mi piacete tanto. Ho scoperto che in Italia si stringono le amicizie e le amicizie contano per molto più in Italia che negli Stati Uniti. Nel giro di tre settimane a Roma faccio più con gli amici italiani che nel giro di un anno negli Stati Uniti. per me l'Italia è eccezionale per l'influenza dei rapporti personali e dell'amicizia molto più che negli Stati Uniti. Grazie professore ci ha fatto una bella sorpresa lei ha parlato che è venuto in Italia anche a insegnare alla LUIS questa università molto importante io non sono di parte ho solo tre figlie che studiano alla LUIS voi capite non sono di parte però ecco lei parla di amicizie ieri è arrivato il responsabile della LUIS a incontrarla perché sapeva che era qui a Acqui per poche ore quindi è venuto a parlare con lei quindi questa amicizia vuol dire che è solida insomma non solo a parole però la cosa che mi colpisce a parte quali sono le altre dodici lingue che lei parla? Le altre dodici? A parte l'inglese? cominciai con l'inglese poi nella scuola secondaria ho frequentato una scuola classica e ho imporato la lingua latina poi la lingua francese poi la lingua greca quando stavo per frequentare l'università mi è stato detto che la lingua tedesca sia così difficile che sarebbe impossibile superare un esame per cominciare la lingua tedesca senza studio in avanso e dunque prima di cominciare l'università ho dedicato l'estate allo studio della lingua tedesca e cioè prima dell'università già ne conosceva cinque di lingue ecco siamo a cinque all'università ho studiato la lingua russa la lingua spagnola poi sono ho trascorso un'estate in Finlandia ho imporato la lingua finlandese poi sono ho cominciato a lavorare nella Nuova Guinea ho imporato una lingua tribale e una lingua di mercato e poi la lingua indonesiana poi ho dovuto imporare almeno a leggere la lingua olandese per la letteratura sulla Nuova Guinea e finalmente per caso la lingua italiana sarà la mia ultima lingua è molto più difficile imporare una lingua all'età di 62 anni ho vissuto in Germania all'età di 23 anni ed imporare una lingua a 23 anni è molto più facile benché ogni giorno negli Stati Uniti leggo l'italiano non leggo la letteratura inglese mai adesso soltanto leggo la letteratura italiana adesso sto leggendo per la quinta volta di primo Levi se non ora quando ciò nonostante è difficile ma chiudo con una scoperta sei anni fa una psicologa e un medico hanno studiato clienti nei casi per i vecchi a Toronto per i vecchi c'è la paura della demenzia demenzia alzheimer e sembra che non c'è niente che può impedire i sintomi della demenzia alzheimer ma in questo studio loro due hanno scoperto c'è una preventativa soltanto contro la demenzia e questo è il bilinguismo quello che quelli che conoscono soltanto una lingua sono più a rischio ma quelli che conoscono due lingue o più di due lingue guadagnano una protezione di cinque anni contro i sintomi della demenzia quindi lei sta avanti di 60 anni insomma io posso dire ho girato tanto il mondo ma devo dire che lei è il primo uomo che vive negli Stati Uniti che dice ciò nonostante in italiano siamo a un livello altissimo anche se so che lei ha una piccola difficoltà nella distinzione tra capello e cappello dica la verità sfortunatamente ho cominciato lo studio della lingua italiana con cd non con un insegnante e sono due le cose che per me rimangono catastrofe è aperto ed è chiuso pesca pesca venti e venti poi cappello cappello e cappello per me rimane impossibile io ho imparato che più sono grandi e più le persone sono semplici quindi è una grande conferma di tutto questo e poi è la prima volta che conosco un vincitore di un premio Pulitzer quindi è veramente importante questo però lei è un fisiologo ha lavorato come ornitologo in Nuova Guinea com'è che alla fine si occupa di storia ed è diventato uno storico mio papà era medico mia mamma suonava pianoforte professionista e anche era linguista dunque sono cresciuto con l'idea di interessarmi per tanti argomenti invece di studiare la medicina come mio padre ho studiato la fisiologia una scienza sperimentale nel laboratorio nel laboratorio si può manipolare io sono diventato esperto sulla cistifelia ho studiato la cistifelia in una soluzione di natrio e di calio dunque sono esperimenti che che creo io quando sono andato nell'organe per studiare gli uccelli non è legale non è morale non è possibile manipolare gli uccelli invece ho dovuto trovare gli esperimenti naturali un monte con una popolazione di questo uccele è un monte dove manca questi uccelli ma dopo quando quando mi sono trasferito nello studio della storia quando quando sono nati i miei bambini io avevo 50 anni e mi sono accorto il futuro dei miei bambini non dipende dal cistifelia ma dipende dalla storia dalla geografia dunque ho cominciato a scrivere libri sulla storia ma nella storia non si può fare gli esperimenti di manipolazione non sono in grado di sterminare tutti gli italiani del nord e di dare soldi agli italiani del meridione se fosse possibile capiremo molto più dell'Italia ma non è possibile non è morale non è praticabile si deve trovare gli esperimenti naturali e questa è la mia specialità nella storia io faccio la storia comparativa non studio mai la storia di soltanto un paese ma faccio paragoni tra tanti paesi per esempio il mio nuovo libro che uscirà mortidi della prossima settimana segnatelo in Italia il mio prossimo libro crisi paragoni la storia della Finlandia del Cile dell'Indonesia della Germania del Giappone degli Stati Uniti tramite e paragonare si può guadagnare idee conclusioni che non sono accessibili quando si studia soltanto un paese c'è un ditta tra gli storici chi studia soltanto un paese finisce con capire nessun paese è esagerato ma c'è un vantaggio di fare paragoni lei ha studiato un vecchio assunto dice che l'intelligenza è un dono la saggezza è una conquista perché grazie all'intelligenza si possono accumulare esperienze non solo direttamente anche indirettamente anche attraverso l'esperienza di altri uomini e migliorare la propria capacità di giudizio e di valutazione attraverso la saggezza lei ha studiato intelligenza attiva e passiva come si stanno sviluppando queste due intelligenze nelle nuove generazioni l'intelligenza attiva e passiva è la differenza tra la mia generazione dei vecchi e la generazione dei miei figli sono stato molto impressionato dalla mia vita nella nuova Guinea la nuova Guinea e l'isola tropicale al nord dell'Australia dove le tribù erano cosiddette popoli primitivi quando sono arrivato nella nuova Guinea i neogeniani utilizzavano ancora gli attrezzi di pietra e di legna non attrezzi di metallo sono arrivato con l'idea i neogeniani sono popoli primitivi bastava un giorno per scoprire che non c'è niente di primitivi per i neogeniani le loro lingue sono lingue più complesse molto più complesse della lingua italiana sono persone molto con curiosità e mi sono posto davanti alla domanda perché sono quelli popoli così intelligenti rimasti con gli attrezzi di pietra mentre io che non sono in grado di trovare un sentiero nella foresta sono arrivati con gli attrezzi di metallo questa domanda mi sono posto per anni e anni e dopo dopo venti venticinque anni nella l'organe finalmente ho cominciato a scrivere un libro armi acciaio e malattie che ha a che fare con perché io ho gli attrezzi di metallo e loro hanno gli attrezzi di legna non ha niente a che fare con l'intelligenza l'intelligenza forse dei neogeniani è superiore alla nostra intelligenza perché loro chiacchierano sempre continuamente tra loro ma ha a che fare con l'ambiente e ieri ho discusso ieri pomeriggio ho spiegato i fattori ambientali che sono il risultato nel fatto che io porto gli attrezzi di metallo e loro no ancora un paio di domande quali tecnologie in futuro potranno fare la differenza quali tecnologie i miei figli avrebbero riso alla sua domanda perché loro sanno che il loro padre non ha nessun interesse per la tecnologia ho acquisito sono stato costretto ad acquisire questo pezzo di tecnologia un iphone ma vedo che ha molta tecnologia che la tiene che la tiene stretta adesso quattro elastici quattro anni fa mia moglie mi ha costretto ad acquisirlo non sono in grado di fare fotografie con delle difficoltà posso estrarre gli sms ma oggi non funziona dunque chiedere a me una domanda sulla tecnologia e da e che dovevamo vedere quel cellulare ci scusi insomma business e natura saranno sempre avversari o potranno andare d'accordo ecco un argomento molto serio e importante quando adesso io sono stato per quasi 40 anni membro del consiglio amministrativo del WWF degli Stati Uniti dunque sono un ambientalista quando ho cominciato ad occuparmi delle dita petrolifere ho creduto come tanti ambientalisti che le dite grandi e soprattutto le dite petrolifere sono malvagie sono cause del disastro per il mondo ma ho imparato che tra le dite grandi del mondo la dita petrolifera che la dita walmart la dita proct e gamble ci sono delle dite grandi che si interessano all'ambiente che hanno scoperto che per loro c'è più profondo interessarsi per l'ambiente ma anche per motivi ideali i motori più forti nel mondo moderno sono i governi da un lato e le dite grandi dall'altro lato se noi abbiamo l'idea che le dite grandi le dite internazionali sono da odiare è una tragedia è vero parecchi sono da odiare ma altri sono forze per il bene e dobbiamo coinvolgerci con le dite grandi perché sono così potenti e importanti grazie grazie veramente Jared Diamond grazie per questa sua partecipazione volevo farle anche i complimenti per questa bellissima cravatta è la prima cravatta che vedo con un pterodattilo sopra non l'ho mai vista è una cravatta con l'opterodattilo e quindi complimenti per la sua intelligenza per la sua disponibilità per il suo sorriso grazie veramente molto grazie